Gioielli, monili e anche le mance che i nonni avevano regalato per Natale alle nipotine, figlie dei padroni di casa. È quest'ultimo dettaglio a rendere particolarmente odioso il furto messo a segno in una tenuta agricola che si trova tra Gossolengo e Quarto, dove vivono anche tre famiglie. Una di queste era in vacanza per qualche giorno, i malviventi non si sono fatti problemi ad entrare in azione nonostante le due case vicine fossero abitate. Di velta un'inferiata protezione di una finestra, i soliti ignoti si sono introdotti nell'appartamento, facendo però scattare l'allarme. Sul posto, attirato dal segnale, è arrivato quasi immediatamente il fratello del padrone di casa, ma dei ladri nessuna traccia. In pochi attimi erano riusciti a svuotare un cassetto che conteneva, oltre ad alcuni gioielli, anche le buste con le mance che i nonni avevano regalato alle due nipotine piccole, sul posto i carabinieri per avviare le indagini. È andata vuota invece il colpo al Conad di Fiorenzuola. Due incappucciati si sono introdotti nella serata di ieri nel supermercato dal retro dell'edificio, con l'obiettivo di manomettere l'impianto antifurto. I due però sono stati individuati dalle telecamere di sorveglianza e livre intervenuta. Sul posto tre pattuglie dell'istituto di vigilanza privata per verificare la situazione insieme ai carabinieri e ai proprietari dell'attività. I malviventi si erano già allontanati facendo perdere le proprie tracce, ma con ogni probabilità sarebbero tornati questa sera per l'assalto alla cassaforte. Il piano però è stato sventato. Il piano però è stato sventato. Grazie a tutti.